Con un applauso i numerosi fedeli presenti davanti la Chiesa Madre di San Cataldo nella tarda mattinata dell'8 dicembre hanno mostrato la propria devozione nei confronti di Maria Santissima Immacolata quando l'arciprete parroco Alessandro Giambra ha consegnato, grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, una corona di fiori, solenne atto di venerazione della città alla statua dell'Immacolata Concezione che si trova sulla facciata della stessa Chiesa. Un momento grande, desiderato, voluto proprio perché la pandemia ci ha impedito di celebrare le feste, le processioni. Io dico che anche Maria voleva uscire, ritornare in mezzo al suo popolo. Ieri c'è stata una giornata bellissima anche con la incoronazione e vorrei ringraziare veramente sempre della disponibilità i Vigili del Fuoco che ci hanno dato questa possibilità di salire fino nella facciata della nostra madrice per mettere la corona alla Vergine Santissima. Una giornata di grande emozione per i devoti della cittadina sancataldese. C'era un silenzio, una commozione, anche perché San Cataldo sta vivendo un momento tragico per la morte di tanti suoi figli. La giornata si è poi conclusa subito dopo la Santa Messa Solenne preseduta da Fra Eugenio Caramia con la processione sino al santuario Santa Maria delle Grazie lungo il tradizionale percorso. Un bel percorso con i tanti portatori che esprimevano questa gioia incontenibile e le persone che applaudivano passando la Vergine Santissima e loro che guidavano e guidiamo tutti viva Maria Immacolata, viva la nostra regina, la nostra mamma. L'Immacolata farà poi ritorno in Chiesa Madre questa domenica. Si prevedono ulteriori appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane a partire da lunedì 12 dicembre con un momento in ricordo di Monsignor Cataldonaro. Monsignor Cataldonaro, arcivescovo di Monreale, è stato consagrato il 14 dicembre 2002 ed è stato arcivescovo fino al 2006. Quest'anno coincide il ventesimo della sua consagrazione. Lui è stato consagrato nel 40esimo anniversario dell'apertura del Coniglio Vaticano II. Quest'anno invece celebramo il 60esimo e verrà a presiedere questa Eucaristia giorno 12, qui alla Matrice, alle ore 18, Monsignor Raspanti, che è il presidente della Conferenza Siciliana dei Vescovi.